Salve a tutti giocatori e benvenuti nel nostro nuovo video Oggi facciamo un piccolo viaggio nel tempo per parlare di alcuni effetti che sono sgravi di alcune carte appunto molto vecchie Questo però non nel fatto di quelle carte ovviamente fortissime tipo scelta dolorosa che prendi 5 carte dal mazzo Loppo te ne scegli una, te la metti in mano e il resto lo metti nel cimitero, non quel tipo di sbroccaggione là Ma la sbroccaggione di alcune carte, potenzialmente sbroccaggione di alcune carte che ne avevamo tipo 30-40 a pacchi Pensavamo che fossero sceme, dopo anni vai a rivedere l'effetto e dici minchia Prosc, inutilizzabile però minchia Prima di iniziare come sempre, vi invito a scrivere il nostro canale, prima di sempre, c'è il mondo di New York non so Grazie mille ragazzi, grazie mille, grazie 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 Andiamo a vedere la meccanica Hound Praticamente, quando non abbiamo nessuna carta nella nostra mano, l'avversario non può attivare carte magia Così, neanche a di, perché il tipo di carte, tipo questa qui, vabbè, è stata anche reprintata in speed 2 Il tipo di carta è, palesemente, fa palesemente l'occhionino a carte tipo 12 stelle Quando non c'è roba in mano, l'avversario magari non può attivare un determinato tipo di carte Ma nel senso, magie, o magie continue, o magie terreno C'erano alcune carte che sono così Lei, in realtà, è molto forte Perché effettivamente l'effetto è sgravo, no? Perché se tu non c'hai carte in mano, ok, vabbè L'oppo non attiva magie Ok, magari in determinati mazzi Soprattutto prima, magari nel 2, questa è uscita nel 2005 Figurati che se riuscivi a calarla in una maniera Molto, molto Eh, carte in mano potevi anche non averle Potevi andare in trappole L'oppo non ti poteva attivare magie Ed era veramente una roba oscena Praticamente è stata Eh, fatta in Cybernetic Revolution nel 2005 Riprintata nel 2022 Nello Speed Duel GX di Paradox E l'hanno poi fatta, va bene, nel 2007 In Dark Revolution 4 E andiamo a vedere come può essere utilizzata Può essere serciata con carte come Genio Clifford, The Infinity Tracker, Rival Storm La Clockwork Knight Ok Eh, macchina questo non so Vabbè, comunque può essere Serciata in diversi modi a quanto pare Ah, sì, ok Può essere serciata in tanti modi Può essere evocata tramite tributo Utilizzando un solo tributo Con queste carte Con il primo Monarchia Cronomalia, Mayan Machine Stavore super pesanti Trojan Wars, il cavallo di Troia Ah, sì, è vero Può essere utilizzata Ok, vabbè Può essere Utile in mazzi Come può essere veramente efficace in mazzi Come Dark World Ma Dark World le carte in mano ce l'ha sempre Cioè, è molto difficile che Giusto a fine combo Se hai proprio buttato tutto Giù sul tavolo Hai la fusione Magari se giochi la Dark Bride Per evitare Il Dark World No, ma facciamo una cosa Tipo, che ne so Super board Di Dark World Nessuna carta in mano Tributi in paio di silva Che hai calato special Che non ti servono più E giochi E giochi Meccanico Ma giochi lui in Dark World E giochi lui in Dark World Loppo Ma cosa fa Dark World Perché non lo può giocare È fantastica Può essere Ok, può Effettivamente In Infernity Può essere utile È impossibile Da evocare Però in Infernity Che non c'è mai Non c'è mai Carte in mano Può essere utile Immazzi pendolo Ok Perché puoi giocartelo Facilmente Poi vabbè Vabbè Da tributo In combinazione Con Snipehunter Oddio Chi cacchiera Snipehunter Ah sì Cacciatore cecchino Vabbè Giustamente Di scarti le carte È certo Utilissimo Comunque È figo Perché ci sono Diverse combinazioni Che non mi aspettavo Comunque Carta sgrava Inutilizzabile Ma sgrava Come tantissime altre carte E niente ragazzi Vi porto sempre Nel magico mondo Delle carte inutilizzabili Ma potenzialmente dolorose Detto questo ragazzi Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti